Un lutto corale, così il maestro Lorenzo Donati, direttore della Vox Cordis, maestro di cori, uno dei più grandi talenti della musica retina, ha definito la protesta adottata insieme ad altri direttori in tutta Italia contro il decreto ministeriale che ha tagliato i fondi a concorsi e ad altre attività corali. Una protesta silenziosa, anzi musicale, che vedrà il suo compimento a Torino il 13 settembre, con una manifestazione alla quale aderiranno oltre mille coristi che canteranno con il lutto al braccio. Io e tanti altri direttori abbiamo fatto parte di questa iniziativa, senza creare problemi nei concerti, senza fare dichiarazioni, però di dirigere o cantare per chi vorrà con il lutto, perché ci sembra che sia stato proprio ucciso un nostro amico, che era una persona che ci aiutava, non era una persona fisica, però è una realtà molto importante per noi. Il ministero ha fatto una scelta di privilegiare alcune realtà professionali a livello italiano, lasciando chiaramente a secco tantissime altre. Si ripercuota anche sulla città, perché sono stati tagliati i fondi ministeriali anche alla fondazione, che per fortuna ha ancora l'aiuto del comune e della regione, ma che da soli chiaramente avranno difficoltà a portare avanti questa situazione finanziaria di una realtà come la fondazione Guido d'Arezzo. Anche il polifonico rientra tra le manifestazioni artistiche alle quali il ministero ha tagliato i fondi, ma comunque nonostante le ristrettezze economiche, anche per questo 2015 la manifestazione si svolgerà sotto il segno della qualità, un'eccellenza tutta retina che rispecchia il brulicare culturale che si respira in città quando si parla di coralità. Arezzo a livello internazionale è già un punto di riferimento. Nell'ambito a retino abbiamo una delle più alte concentrazioni di cori e anche di qualità dei cori, sono tutti cori di grande qualità.